E' stato un salvo. E' stato un salvo. Controindicazioni a Cronebegan. Questa avanza. Si, Cronebegan. del team Uomo. I fatti il finale della... Volata con Cronebegan che sopra avanza. Viviani arriva a provare a intuzzare. Io allo scatto. Alla scatto. Ma la sprint finale dovrebbe averne i tuoi. Grazie, abbiamo qualche secondo anche per un commento e per l'ordine